Ecco siamo al Summer Jamboree, è arrivata anche qui la pioggia, un piccolo temporale come l'anno scorso che però non ha interrotto la manifestazione, ecco qui siamo in piazza Simoncelli dove si trovano le auto d'epoca e ora faremo un video su queste auto. Ecco vediamo le caratteristiche auto dell'epoca. Ecco qua, più molto ma adesso è piena di anni, c'è una mostrata, una manca. E' passato, è passato tę un po' per 104. La단 arbitro a alto è quella di te. Bene. Bene. Ecco, vediamo due jeep militari al centro. Qui siamo di fronte a una Chevrolet a tre posti anteriori, dagli anni 50-60. Ecco ora, da piazza Simoncelli, dove ci sono le auto d'epoca, andiamo verso il foro annonario per andare a vedere i tatuatori, che dovrebbero già essere in azione. Ecco qui, stiamo andando verso il foro annonario, abbiamo lasciato la piazza Simoncelli. Ecco qua abbiamo Lungomisa, che poi confluisce nella zona del porto. Ecco, sull'alto vediamo la pubblicità del Summer Jamboree. Siamo a sabato, penultima giornata. Il tempo sembra mettersi al meglio dopo questo piccolo temporale. Ecco, qui di fronte abbiamo la zona dove dovrebbero essersi i tatuatori. Infatti vediamo la pubblicità Adriatic Ink, Tattoo Studio. Entriamo in questa sala di tatuaggi. Ci sono diverse postazioni dove vengono eseguiti i tatuaggi. Questa è la sala. Ecco, con queste immagini della sala di tatuaggi del Summer Jamboree, terminiamo questo video. Ecco qua. Andando in questa. In questa nuova versione. Connectionati.